L'iniziativa di oggi è un'iniziativa estremamente interessante perché consente di divulgare a tanti giovani, a tanti ragazzi, a tanti professionisti, anche dipendenti della pubblica amministrazione, delle nozioni di base fondamentali, importanti relative all'utilizzo dei fondi strutturali europei. Noi dobbiamo rilanciare quello che è uno dei temi fondamentali della importanza e del senso dell'Europa, soprattutto per i territori e per il Mezzogiorno d'Italia. Ci sono delle risorse che rappresentano una somma importante e che in questi momenti di vincoli di bilancio sono le uniche certe liquide esigibili che noi dobbiamo sempre più essere in grado di utilizzare in modo più concreto, in modo più efficace, in modo più utile per i territori. Per fare questo però è necessario ovviamente creare una cultura dell'utilizzo dei fondi europei, dare gli strumenti sia alle pubbliche amministrazioni che ai privati per poter migliorare l'efficacia, in particolar modo, dell'utilizzo dei fondi europei. Veniamo da cicli di programmazione nei quali abbiamo utilizzato poco e male queste risorse. Allora è bene rilanciare il senso e il significato positivo per la possibilità di creare crescita, sviluppo, occupazione sui territori, ma è bene anche concentrarsi su come mettere a frutto queste risorse dando gli strumenti agli operatori sia del pubblico che del privato per poterli utilizzare al meglio.